Ciao a tutti, oggi prepareremo i bagel. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, lievito di birra fresco, acqua, sale, zucchero, semi misti, sale grosso e zucchero di canna. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero ed azioniamo il bimbi per 3 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina ed il sale e facciamo impastare per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, dividerlo in 6 panetti. Dopo aver diviso l'impasto, formare delle sfere e con uno stampo per ciambelle infarinato formare i bagel. posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno e infarinata. Dopo aver formato i bagel, lasciamoli evitare ancora per 45 minuti in forno spento. trascorso il tempo abbiamo ripreso i bagel da forno, adesso portiamo a bollore una pentola con l'acqua, il sale grosso e lo zucchero di canna e immergiamoli per circa un minuto per lato. Successivamente capologiamoli sui semi misti e posizionarmoli su una teglia rivestita con carta da forno. Una teglia rivestita con carta da forno. cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20 minuti circa i bagel sono cotti lasciamoli raffreddare prima di servire bagel grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti